Cortile interno di Palazzo Vidman a Bolzano Gremito per accogliere il Presidente della Provincia Arno con Pacer e per ascoltare il bilancio degli obiettivi raggiunti nel corso della sua prima legislatura alla guida dell'esecutivo. Non una classica relazione ma un incontro organizzato sotto forma di intervista con la possibilità da parte dei numerosi presenti e della cittadinanza attraverso i social media di intervenire e porre le proprie domande. Poco meno di 5 anni di intenso lavoro, tantissime le sfide affrontate e vinte, molti gli obiettivi raggiunti a livello provinciale, nazionale ed europeo. Sono stati 4 anni e mezzo difficili anche perché gli avvenimenti hanno sconvolto un po' tutta l'Europa, la migrazione e anche la crisi economica che c'è stata e perciò abbiamo avuto tanto da fare. Innanzitutto abbiamo dovuto ristabilire i rapporti con Roma, recuperare anche l'autonomia finanziaria, ci siamo riusciti e questa era la base anche per adottare misure a sostegno dell'economia, siamo partiti nella crisi, questo adesso è superato e perciò io credo che siamo riusciti a gestire abbastanza bene questa situazione difficile, ponendo le basi anche per un futuro positivo. Alcuni dati per fotografare i risultati conseguiti negli ultimi 4 anni e mezzo. Grazie alle nuove politiche sostenute anche a livello comunitario, i richiedenti asilo in Alto Adige sono calati in un anno quasi del 20%, arrivando ad essere oggi 1.370 sul territorio provinciale, il 33% ha un lavoro. Crescita del prodotto interno lordo, crescita dell'export, aumento degli sgravi fiscali, aumento del bilancio provinciale, diminuzione della disoccupazione. Questa è l'economia florida della provincia autonoma di Bolzano. Personale amministrativo della giustizia, energia, tributi locali, poste, commercio al dettaglio nelle zone produttive, parco nazionale dello Stelvio, caccia. Sono solo alcuni esempi delle competenze assunte dalla provincia di Bolzano a tutela della propria autonomia.